Incidente stradale, in pausa pranzo a San Drigo, all'intersezione fra le vie Chizzalunga e Galilei. Un automobilista è rimasto lievemente ferito e è stato portato all'ospedale. Lo schianto è dovuto probabilmente ad una mancata precedenza, ha coinvolto un furgone bianco, un'auto finita ribaltata su una iola a bordo strada. Il furgone ha riportato danni sulla parte anteriore sinistra, l'auto è finita a ruote all'aria. Sul posto l'ambulanza del 118, solo ferite leggere per il guidatore portato all'ospedale in codice verde. Sul posto per i rilievi del sinistro e la regolazione del traffido intenso data all'ora, sono stati effettuati i controlli dei carabinieri.